Padre e mari Dominique Philippe e io diciamo la stessa cosa. L'obiettivo di queste lezioni è che la persona impara, che il suo unico maestro, è l'osservazione della realtà a cui si sottomette umilmente. Dovrà cambiare costantemente i suoi sistemi di pensiero se trova qualcosa nella realtà che la contraddice. Questa persona può utilizzare tutti i sistemi esistenti. Perché non usare Marx, Freud, Nietzsche? Perché non esiste un'ideologia che non abbia una piccola parte di verità da qualche parte. Direi che forse mostrerò a volte come queste filosofie siano ideologie. Significa che in realtà non stanno cercando il reale, ma amano l'idea del reale, che l'hanno fatto. Per il marxismo, è molto chiaro. Dire che creeremo il paradiso in terra, sopprimendo la proprietà privata e facendo lavorare tutti generosamente nell'amore dell'umanità, per tutti, è stato un errore che potremmo scoprire in cinque minuti. Sapere che non è vero. Le persone non vogliono, con poche eccezioni, il 10% della popolazione, lavorare per il collettivo. Lavoriamo per sua moglie, per i suoi figli. È nello stato di far uso di queste forze che alla fine sono egoiste, che sono una generosità intracomunitaria per arricchire l'intera società. Avrebbero potuto rendersene conto molto rapidamente, ma poiché il sistema era più importante dell'uomo, quando l'uomo si oppose al sistema, tagliò la testa agli uomini. Questa si chiama ideologia. Lì, al contrario, ci sottomettiamo alla realtà. Significa che, se mai costruiremo, per orgoglio, perché siamo tutti un po' orgogliosi, un sistema che non corrisponde alla realtà, quindi, evacuiamo il sistema, lo modifichiamo con l'unico maestro, sempre, il reale. Quindi, per questa prima lezione. Introduzione alla filosofia realistica, lezione 2. Introduzione alla seconda lezione di filosofia e in particolare alla metafisica, vorrei rivolgere una domanda che è più specificamente rivolta ai cristiani. In effetti, non posso negare di insegnare principalmente teologia e religione prima in Belgio. Inevitabilmente, molti dei miei ascoltatori possono essere cristiani interessati alla formazione per la teologia. Quindi questa filosofia realistica, la Chiesa Cattolica, recentemente attraverso Papa Benedetto XVI, ha chiesto di reinserirla negli istituti di formazione, nei seminari, ecc. Perché è così importante quando ci alleniamo in teologia per iniziare facendo, per lungo tempo, la Chiesa richiede tre anni, di filosofia realistica, centrata sulla conoscenza, non su qualsiasi realtà, non è non conoscere la zanzara, sebbene l'oggetto della filosofia sia tutto reale. No. Principalmente focalizzato su un oggetto particolare, amico. Conosci l'uomo. Il motivo è che la rivelazione cristiana è data alle persone che per prime hanno una natura umana, e fiorisce solo seguendo l'ordine della natura. Inoltre, è coerente. La rivelazione parla quindi di una salvezza soprannaturale, vale a dire la visione faccia a faccia, nell'eternità, di Dio, il Creatore del mondo. Spiega anche che ci troviamo tutti, almeno quelli che hanno accettato di amare questo Dio lì. Altri fanno altre scelte, che Dio rispetta pienamente. Bene, chi è colui che ha creato questa natura umana che va oltre la quale si innesta questa vita che va oltre la natura umana, perché non è naturale per l'uomo vedere faccia a un essere un essere infinito, il Creatore. Ma colui che l'ha creato è il Creatore. Quindi se ha avuto l'idea di creare l'uomo, vediamo che possiamo studiarlo, che vediamo con i suoi occhi. È quindi positivo che abbia dovuto mettere cose che non sono in contraddizione con la rivelazione e che, al contrario, aiuteranno a comprendere profondamente la rivelazione. Non ci possono essere contraddizioni tra una filosofia veramente realistica, ciò significa che ha solo il solo oggetto della realtà, umilmente conosciuta e teologia cristiana, se è ben compresa. Perché? Perché per un cristiano entrambe le discipline studiano realtà che hanno un'origine, vale a dire Dio. Quindi, inevitabilmente, non si dovrebbe avere paura di guardare il reale, con la propria intelligenza. Se mai una cosa, nella realtà osservata dal metodo filosofico e quindi dalla sua ragione naturale, sembra opporsi a un dogma, ci sono due possibilità. O nel regno della realtà, siamo andati troppo in fretta, o nel regno del dogma, abbiamo frainteso il dogma. Faccio un esempio, esiste un dogma cristiano che dice che è per colpa di un uomo che la morte è venuta nel mondo. Quindi, spiegazione teologica del Medioevo, prima che Adamo ed Eva peccassero, gli animali mangiavano erba e non morivano. Quindi un'altra spiegazione dal Medioevo, gli animali dovevano essere creati cinque giorni prima dell'uomo e per vivere sulla terra tutto il tempo.